delle dichiarazioni della politica potesse essere diversa, invece no. Invece ci troviamo di nuovo con un tentativo di scaricare il barile della responsabilità sugli altri. Io condivido quanto dice lei dottor Pancani, servirà un giorno fermarsi e approfondire il tema delle responsabilità. Parto però da alcuni dati certi. La sanità per costituzione è una di quelle branche che è affidata alla responsabilità delle regioni, soprattutto delle regioni, solo marginalmente subentra il governo centrale. E prima, alla luce di quello che è successo, di parlare di ancora di buona sanità in qualsiasi regione, io farei una riflessione approfondita partendo dalle parole di Sberna. Il dottor Sberna ad un certo punto ci dice lui stesso che mette in discussione quel sistema che era sembrato ottimo e che in realtà forse, perché aveva puntato troppo sul privato, poi si è trovato scoperto di alcuni presidi, forse non aveva fatto un buon piano per le RSA. Ecco, ne metto sul tavolo una di possibili responsabilità. Ciò che è certo è che, a mio avviso, è ancora presto. So però che se la senatrice Borgonzoni si lamenta di quanto non ha fatto il governo a fine gennaio, dovrebbe ricordare che il suo leader di partito, il 27 di febbraio, continuava a dire apriamo tutto. Apriamo fabbriche, industrie, apriamo bar, ristoranti. Il 27 di febbraio tutto questo attraverso. Quando noi stavamo mettendo sull'ordinanza per bloccare il Paese, per mandarlo in lockdown. Quindi prima di scaricare delle responsabilità, invito all'autoresponsabilità. Quindi pensiamo un attimo ad affrontare i problemi reali del Paese. Pensiamo semmai, se non è il caso, visto quello che è successo, di ridiscutere il 27 di la Costituzione e di immaginare, io sul punto ho presentato una proposta di legge con altri colleghi, se non è il caso di ricentralizzare il servizio sanitario e di immaginare che in un momento maggiormente centralizzato ci sia l'opportunità di intervenire in caso di emergenza. E' l'altra discussione, Miceli.